Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale. Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 31, proveniente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Cremona Strale, diec Дardone Centrale, rivaliente da Mastrova e diretto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 32,ああ manifiesto a Milano Centrale, Il treno regionale delle ore 18 e 31, provenientate da Milano Centrale, Grazie per la visione Grazie per la visione